Santi Ponziano e Ippolito Ponziano, dell'antica e nobile famiglia dei Calpurni, fu eletto Papa nel 230 e consacrato il 21 luglio di quell'anno. Ippolito fu un sacerdote romano che conosceva la filosofia greca classica, teologo e predicatore stimato. Ippolito avvertiva il rischio di eresia in ogni tentativo di innovazione pastorale, cosicché fu nominato il primo antipapa della Chiesa. Ponziano governò fin quando l'imperatore Massimino il Trace riaccese la persecuzione contro i cristiani. Deportati entrambi in Sardegna e condannati a lavoro in miniera, si riconciliarono prima di morire di fatica e di stenti. Ippolito è patrono degli operatori carcerari dei cavalli e viene invocato contro la debolezza. Ippolito avvertiva il Trace riaccese la persecuzione contro i cristiani.